55 sono le lettere di licenziamento arrivate ai dipendenti dell'azienda Pica di Pesaro che da venerdì scorso ha annunciato la chiusura e la fine delle attività produttive di laterizi del settore edile che da anni ha costituito il punto di riferimento della produzione nel comprensorio provinciale. Questa mattina così come nel giorno ufficiale della comunicazione di fine lavori i dipendenti si sono ritrovati davanti ai cancelli dell'azienda per protestare sotto le insegne dei sindacati. La proprietà francese che conta altre tre unità produttive in Italia ha deciso di chiudere definitivamente la sede pesarese che ha rappresentato da oltre 70 anni un marchio storico avendo accompagnato la crescita economica della città dal dopoguerra in poi. Un licenziamento di queste 55 persone che ripeto è età medio alta che va dai 55, 58, 59 anni che avranno anche problemi di rinserimento nel mondo del lavoro. Stiamo adottando tutte le misure che in questi casi possiamo utilizzare ad esempio proviamo a chiedere una cassa integrazione straordinaria per chiusura di stabilimento. Stiamo pensando di fare anche una protesta, fermare un attimino il traffico dalla statale che passa davanti a questo stabilimento, ci stiamo organizzando anche per questo. Inoltre dopo aver chiesto l'apertura di un tavolo nazionale anticrisi da parte della regione e del governo, rivolgendo una lettera al ministro Di Maio, in Pavarallelo il sindaco di Pesaro giovedì prossimo incontrerà i vertici di Terral in una riunione in comune.